Questo programma è presentato da Banca Popolare Etica. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Sono nato a Brescia ma faccio il prete qui in Calabria, sono il presidente della comunità Progetto Sud e il motto di questa nostra comunità è il bene comune di fare comunità. Siamo con Don Giacomo, l'idiatore, il pensatore, il fondatore della comunità Progetto Sud, una realtà che impareremo a conoscere per bene anche nelle prossime puntate. Intanto chiediamo a Don Giacomo come nasce la comunità Progetto Sud, perché nasce, perché al Sud e perché in Calabria? Nasce perché nel 1975 io ho conosciuto un sacerdote con delle persone in carrozzina che è venuto alla comunità di Capodarco, nelle Marche. Io stavo là perché stavo seguendo una tesi per la teologia di catechesi, sulla catechesi alle persone con disabilità, per vedere se non capiscono. Possiamo battezzarli o possiamo cresimarli o facciamo senza sacramenti. In quel periodo che era stato di alcuni mesi ho incontrato questi dalla Calabria che dicevano potete accoglierci qua nelle Marche che in Calabria non ci sono servizi? E i pochi istituti che ci sono hanno dentro 800-1200 ricoverati, che sono un po' lager. Su questo contesto da Capodarco hanno detto ma non venite qui, facciamo qualcosa laggiù. E io che stavo facendo questa tesi mi hanno coinvolto per spostarmi giù. Però eravamo nelle Marche, io ho dovuto chiedere anche alla diocesi di Brescia. Questi spostamenti hanno coinvolto tre diocesi, Brescia, Fermo e la Mezzia Terme. E allora mi sono spostato perché questi sarebbero stati rimasti chiusi nelle case o ricoverati in questi lager. Don Giacomo, quindi la comunità Progetto Sud nasce da un'esigenza, mi permetto di dire, da un disagio, proprio del sud, ma anche, possiamo dirlo, da una chiamata, da una vocazione, nella vocazione da parte di dio. Ma io direi che è così, perché io stavo studiando, non sapevo ancora che tipo di prete diventare, perché ho fatto anni di fabbrica prima e stavo guardando che fare la grande. E in quel contesto lì mi ha acceso la lampadina per dire, ci provo io. E i vescovi hanno concordato di imprestarmi qui. Quando ti è servita l'esperienza pregressa della fabbrica? Sì, perché hai anche fama di essere prete di strada, prete operaio. Quanto ti è servita quell'esperienza giovanile? Boh, mi ha tenuto attaccato alla quotidianità, mi ha tenuto attaccato al bisogno di lavoro, mi ha tenuto attaccato, io ho fatto gli anni 60 e un po' di 70 con la fabbrica, perciò a quei momenti di ribellione anche che c'erano nelle fabbriche, cioè ai temi sostanzialmente non tanto della ribellione, ma dei motivi della ribellione, ai temi dei diritti, ai temi della giustizia, che oltretutto era la parola che poi studiando in teologia era la parola molto ricorrente sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Mi trovavo dentro comodo, nel senso di facile, con questi argomenti di teologia, di catechesi, di chiesa, con gli argomenti che avevo prima come metallo meccanico. E quindi Don Giacomo, sei arrivato al sud, cosa hai trovato e cosa invece c'è oggi? E qui al sud ho trovato la povertà dei diritti sociali, la povertà dei diritti sanitari, loro nemmeno andavano a scuola, perciò mi sono messo i primi due o tre anni a fare scuola io, a insegnare a leggere e scrivere e questo però a mia volta sono stato aiutato a capire l'analfabetismo, a capire queste cose che mi sono servite dopo, perché chi poi è arrivato a fare il terapista, a fare l'educatore, a fare il psicologo, a fare l'assistente, io capivo che dovevano fare la gavetta di parlarci con questi giovani, di discutere, di non venire da Saputelli ad aiutarli. E l'operazione si è conclusa bene, anche perché io ho dovuto imparare cos'era il sud, perché per me il sud era il sole e il mare e invece poi c'erano anche i mafiosi, c'era anche tanta povertà e tanta disoccupazione, perciò mi sono messo a studiare tanto queste cose oltre la teologia. C'era o c'è ancora? C'è ancora in maniera differente, ad esempio a quei tempi i ragazzetti venivano a chiedere il pizzo, perché noi abbiamo messo subito una fabbrichetta per poter lavorare, per le cose di rame, per le cornici, per le cose di legno, i nostri tavoli, tranne le sedie, ma i nostri tavoli, i nostri armadi, tutte queste cose, le cornici dei quadri, noi abbiamo lavorato specialmente i primi 11 anni, le entrate erano solo quelle del nostro lavoro, perciò ci siamo incontrati e scontrati subito con i mafiosi che volevano il pizzo sul lavoro. A me faceva schifo che venissero a chiedere soldi vedendo la gente in carrozzina lavorare e ci siamo scontrati da subito, perciò queste cose erano in un certo modo. Oggi invece hanno cambiato metodologia, hanno cambiato modalità e io questo l'ho imparato anche di più perché con altri abbiamo messo su un gruppo anti-racket qui di La Mezzia Terme e perciò vedo che anche da quello che mi dicono gli altri del gruppo, che i mafiosi si comportano differentemente, che ne so, se prima addirittura mi sparavano dentro anche questa finestra oppure mi dicevano che mi uccidevano eccetera eccetera, adesso invece ci bruciano i campi, ci fanno saltare le saracinesche di altre nostre case, qui hanno tagliato i freni delle automobili, che sono modalità di attentati o di intimorirci, ma per dirlo alla città, perché sanno che ormai da quando ho fatto il testimone di giustizia nel 2002, da allora in poi sanno che li denuncio e perciò queste cose le fanno per dire alla città, anche a noi, però per dire alla città noi ci siamo. Fatti dimostrativi. Sì, sì, ma perché quelli parlano così, quelli fanno scuola così, ma non soltanto a chi vogliono intimorire, ma per fare in modo che la città sappia che i gruppi mafiosi esistono. Ecco Don Giacomo, mi ponevo questo argomento, questo dubbio, sicuramente sono atti intimidatori, ma noi cristiani, con te posso parlare in questi termini un po' più autoreferenziali, persone di chiesa, non ci facciamo intimorire, però mi chiedo in che modo puoi presentare o se vuoi anche assumere un atteggiamento di protezione nei confronti poi di tutti invece questi ragazzi, questi giovani che ci circondano, sto girando per la realtà del Progetto Sudo, sto incontrando dei volti, ecco come rassicurare le famiglie di questi ragazzi, di questi giovani? Sì. Ecco, la famiglia che sa che il figlio va da Don Giacomo e rischierebbe addirittura il proiettile che entra nella finestra, ecco come rassicurare? Ecco sicuramente non deve essere intimidante la cosa e quindi cosa diciamo a queste famiglie? Ci parliamo insieme, ci chiacchieriamo insieme e io non decido, negli miei studi anche a Brescia, ho imparato a essere non direttivo e allora riesco anche con quelli in carrozzina, ma anche con i genitori a fare solo quelle cose che faremmo insieme, addirittura per prendere la prima casa confiscata, quando il prefetto me l'ha chiesto di prenderla perché c'erano dei problemacci in città, addirittura i vigili urbani hanno minacciato lo sciopero per non entrare in quella casa da utilizzarla e era andata sui giornali la cosa che è successo, è successo che io ho invitato tutti e tutte dicendo il prefetto ci propone di utilizzare la casa confiscata al clan Torcasio, voi che vedete e alcuni di loro, proprio quelli in carrozzina, il gruppettaro di carrozzina di quelli più con la dignità con la testa alta, hanno detto noi vogliamo regalare alla città di avere meno paura, noi andremo ad abitare là e questo è accaduto. Per questo il Progetto Sud è una comunità, comunità Progetto Sud? Sì, perché facciamo comunità non solo perché abitiamo qui o nelle tante altre case, ma perché facciamo comunità sul territorio e le cose che facciamo insieme tra noi o con altri sono legate a certi principi etici, che sono anche cristiani, che sono quelli della dignità, della libertà, del dire la nostra, del non farci sottomettere, del costruire speranza nella vita. Don Giacomo, tutti questi concetti che stanno emergendo, lavoro, attenzione ai gruppi più fragili, alle fragilità umane, lo stesso concetto di cooperativa, comunità, possono essere, per questo chiedo a te, possono essere categorie proprie di una attuale, moderna, sensata, pastorale, giovanile? Può essere qualcosa che va a segnare l'azione della Chiesa, a indicare un percorso? Cioè la Chiesa può navigare, viaggiare? Ma a mio avviso mi è capitato così, non è che io ho programmato tutto, però di fatto quando facevo scuola prima, quando poi volevo portarli al cinema, quando poi abbiamo messo su la prima fabbrichetta e io mi sono rivolto ai giovani, no? Che si sono immessi. Dopo naturalmente ho detto loro, guardate se invece che fare volontariato volete farlo diventare un lavoro, un'attività, basta che studiate di educatore, di assistente sociale, di agricoltura, di quelle cose che servono e state tranquilli che lavoriamo in Calabria e questo è accaduto. Noi abbiamo circa 200 persone che lavorano a busta paga, non è che abbiamo 4 persone, cioè ecco, tutto è partito dai giovani, cominciando dai Boy Scout locali, no? Che l'hanno vista come, oltre che come cosa bella nella vita, l'hanno vista anche come scelta di vita. Esattamente, per questo ti chiedevo, quindi una Chiesa che oggi vuole rivedere i suoi schemi rispetto all'azione a favore dei giovani, la pastorale giovanile, può navigare in questa direzione? Fare pastorale giovanile oggi può significare anche creare opportunità di lavoro? Io non so se è anche, ma è una delle scommesse possibili, ma non forzata, cioè il tema del lavoro insieme, no? Si può fare, se non si fa una cooperativa, si fa un team di lavoro, si fa una ditta, ci sono tanti modi di lavorare insieme. Io sfido chiunque a dire lavoro io da solo, utilizzando il vecchio proverbo che fa da se fa per tre, non è più ora, non è più tempo, ma nemmeno per pensare, nemmeno per progettare, nemmeno, perché il lavoro ormai ha tante scansioni, io mi devo mettere, mi devo fidare e devo dare fiducia agli altri per costruire il lavoro del presente e del futuro. Mi sembra di togliere anche, ecco, l'anche io lo toglierei, mi sembra che la scommessa del presente e del futuro è quella di lavorare insieme. E quindi a tal proposito la Chiesa come ti ha accolto, come ti accoglie oggi, dopo tanto tempo, c'è un'alleanza educativa tra Comunità Progetto Sud e magari Chiesa Locale? Sì, 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 perché dall'inizio quando sono venuto io ero già collegato col giro della Caritas Italiana, perciò diciamo che dal 1974 la Caritas Italiana era appena nata, nel 71 era appena nata, no? E Monsignor Nervo l'ho incrociato per provvidenza, non voglio dire per caso perché è stata una provvidenza, no? Di fare delle attività insieme, subito poi abbiamo fatto insieme la preparazione, io ho partecipato a delle iniziative per la preparazione a un convegno da fare l'anno dopo, nel 1976, che era il convegno nazionale intitolato evangelizzazione e promozione umana, erano tutti temi che mi avvicinavano di più alla Chiesa, invece che solo agli studi che stavo facendo, no? E sono temi evangelizzazione e promozione umana, una combinazione che non vi dico, è il tema del volontariato, no? Perciò queste cose, quando mi hanno imprestato qui a fine 76 con la lettera del vescovo mio, con scritto al vescovo di qua, ti affido a Don Giacomo, trattalo come un figlio, no? Quello me l'ha letta, io non l'avevo aperta, no? Era così ma non l'avevo aperta, no? Non era bollata, ecco, non era incollata, però me l'ha letta davanti e mi veniva a piangere, e è capitato così, perciò quello mi ha fatto subito di direttore della Caritas, che non c'era, che non c'era ancora la Caritas qui, no? E perciò la Chiesa da allora mi ha tenuto nella zona Caritas e nella zona dottrina sociale, perciò ci siamo capiti al volo, ecco, e abbiamo lavorato tanto e bene. Bene Don Giacomo, scusami, un'ultima domanda, dottrina sociale, tra i capitoli della dottrina sociale, l'economia sostenibile, la finanza etica, c'è stato anche un supporto in tal senso, credo, alla Progetto Sud? Sì, 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 anche perché quando è nata Banca Etica, si può dire io c'ero, perché c'ero già da prima con la Mag di Verona, no? Perciò quando è nata Banca Etica, quando la si costituiva, io faccio parte di quelli che ho scritto nei libri anche, no? Che l'abbiamo fatta partire, no? E ci capiamo sul fatto anche dei soldi, della finanza, che può fare tanto bene ma anche tanto male. Perciò come Chiesa, io spero che anche come Vaticano, come CEI, si approfondisca di più e si scommetta di più sulla sostenibilità dei soldi che non devono fare strade parallele, che vadano a finanziare le banche armate, che vadano a finanziare tutto quello che succede nel mondo, perché si tratta della responsabilità indiretta. Noi non possiamo direttamente fare il bene e indirettamente mettere i soldi da qualche altra parte che fa il male, come Chiesa proprio. È un problema di dottrina, è un problema di etico, ma non dell'etica solo umana, dell'etica cristiana. Don Giacomo siamo alle battute finali. È stata una puntata veramente emozionante grazie alla tua testimonianza. Non so se ti senti di dire qualcosa di conclusivo. Innanzitutto ti ringrazio, perché è davvero edificante e oltre che emozionante. Se vuoi dire qualcosa, non so se ci è sfuggito qualche passaggio o anche un ultimo messaggio ai giovani che ci ascoltano. Non dovrei inventare, perché quello che vado dicendo con i gruppi giovanili è quello di sperimentare, è quello di girare il mondo, è quello di studiare, è quello di capire e è quello di scommettere che se parti devi avere un occhio anche sulla Calabria, se rimani devi avere un occhio anche sul mondo, ma comunque rimanendo in Calabria ci sono ancora tanti posti di lavoro non da occupare perché li lasceranno quelli che vanno in pensione, che sono tanti, ma perché bisogna prendere i posti vecchi e quelli nuovi per lavorare in un altro modo, che sia innovativo, che sia creativo e che sia produttivo, non di mafie, ma di democrazie, non di favori, ma di diritti. Ma io aggiungerei una cosa, insomma, aggiungerei una cosa che è questa, io che scommessa ho fatto venendo in Calabria, da nord a sud? Una scommessa che mi veniva dai Vangeli, che mi veniva dalla Bibbia, che mi veniva dal finale di una tesi sulla catechesi che avevo fatto sulle persone con disabilità intellettiva, capiscono questi o no i Vangeli. E lì, sfogliando di nuovo la Bibbia per vedere cosa mi poteva dire, mi sono trovato a imbattere un testo che conosceva memoria, ma che ho riletto in un'altra maniera, perché era il Vangelo di Giovanni dove gli Apostoli chiedono a Gesù ma questo cieco nato è così per colpa sua o per colpa dei suoi genitori? E Gesù gli dice che è colpa proprio di nessuno, ma lui è così perché in lui si manifestino le grandi opere di Dio. Io in questo momento che sapevo di venire giù a fare che cosa e ho capito che se mi spostavo era perché questi in carrozzina facessero le grandi opere di Dio. E perciò ho parlato, trattato, spiegato loro che erano loro che dovevano fare grandi cose e non io. E vi dirò che ne hanno fatte tante grandissime e grandiose. Abbiamo ascoltato la toccante testimonianza di Don Giacomo, ora siamo con Maria Pia. Maria Pia è la responsabile delle comunicazioni del progetto Sud, ci accompagnerà anche nelle prossime puntate presentandoci le realtà che andremo a visitare. Intanto in quella parte del programma che di solito si identifica con il tutorial, Maria Pia ci presenterà il progetto Sud rispetto a quello che è la sede principale e quindi le attività che si svolgono. Siamo a Via Conforti, alla Mezzia Terme. Questo edificio è la casa madre della comunità Progetto Sud. Era un asilo abbandonato, è stato occupato dal gruppo che ha fondato la comunità Progetto Sud insieme a Don Giacomo Panizza. Le persone si sono messe insieme, hanno riqualificato l'edificio e da qui è partita la storia ormai quarantennale della comunità Progetto Sud. Siamo nell'ufficio di presidenza della comunità Progetto Sud, qui è il posto di lavoro del Presidente, quindi Don Giacomo Panizza e anche della segreteria della comunità. Qui si pensa, si lavora insieme, diciamo che anche se gli ambienti della comunità sono ovviamente per motivi di comodità suddivisi, le decisioni in comunità si prendono insieme. Il nostro metodo di lavoro è quello di socializzare tutte le decisioni, dalla più piccola alla più importante. Questo spazio, prima di diventare ufficio comunicazione e progettazione, era la tipografia della comunità Progetto Sud, perché c'è una rivista ormai che accompagna la vita della comunità che si chiama Alogon e qui veniva stampato insieme a tutto ciò che comunque era il ciclostile che in qualche maniera riguardava i fatti, gli avvenimenti della comunità.